Terza giornata del campionato di Serie C Silver con una sola formazione in campo, l'Alliance Udas, in cui dovrà confermare il trend positivo di inizio stagione. Secondo trasferto dopo quello del esordio sofferto a Lecce, si va in casa dell'Action Now Monopoly, neopromossa in questa categoria, che ha raggiunto con pieno merito dopo aver vinto la finale in Serie D contro il Ceglie. I biancazzuri di Coccio Marinelli puntano sul recupero di Boss dopo l'infortunio di sei giorni fa e anche sul possibile inserimento della nuova guardia Mike Malat per dare maggiore vigore all'attacco. Per l'Olimbica Basket, settimane di intensa seduta per resettare la sconfitta subita a Nardò per 81-62. Il turno di riposo sarà utile per ricaricare al massimo le energie in vista dello scontro casalingo del prossimo 11 ottobre contro da Juve Trani. Di certo si tratterà di una sfida dura ma i Joyer Blue vogliono togliersi parecchie soddisfazioni in questo campionato e la forza ed il cuore dei tifosi li spingerà a cercare i due punti.